Il video di calciomercato di oggi non poteva assolutamente mancare, ma oggi di chi si parla? Bomber, le notizie di calciomercato del Napoli non ci sono, cosa sta succedendo, che cosa succede? La notizia ve la dà direttamente oggi il Bomber Mata, perché cosa sta succedendo a Napoli? Allora, le trattative in questi giorni diciamo che non è che ce ne sono state tante in zona Napoli. Sappiamo dello scambio Sirigu-Gollini, ne abbiamo già parlato sul canale, andatevi a vedere i video precedenti. C'è il video in cui vi parlo dello scambio Sirigu-Gollini, oggi si parla di un'altra possibile operazione di mercato del Napoli che potrebbe essere fatta in futuro. Cosa sta succedendo? Allora ragazzi, il Napoli potrebbe andare ad agire sul mercato quest'estate di nuovo sul ruolo del portiere. Ma cosa è successo realmente? Ci dobbiamo preoccupare? No ragazzi, alcuna preoccupazione. Allora, le ottime prestazioni diciamo del nostro portiere Alex Meret sono state ad occhiate un pochino in Europa. Allora, il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Alex Meret, avrebbe diciamo fatto un pensierino, lo ha definito la Repubblica, per Alex Meret. Perché proprio su Alex Meret? Perché il portiere ragazzi non ha ancora trovato diciamo un accorto sul prolungamento da firmare fino al 2028, perché avevamo detto che Meret e il Napoli stanno comunque trattando per un prolungamento fino al 2028. Cosa che non è stata ancora trovata e allora il Tottenham potrebbe farci un pensierino. Cifra che si aggira intorno a Meret potrebbero essere appunto 20-25 milioni e per 20-25 milioni il portiere potrebbe addirittura partire. Questa sarebbe una notizia che non dico mi scandalizzerebbe, però ecco io ad oggi Meret non me lo andrei ad avvendere perché sta facendo molto molto bene e ricambiare i portieri quest'estate non lo so fino a quando ci possa convenire. Abbiamo cambiato Ospina, abbiamo messo dentro Meret, adesso che facciamo? Vendiamo Meret? Per cui mi sembra un pochino strana questa cosa. Ma la notizia su cui mi volevo assolutamente soffermare non è la possibile vendita di Meret che secondo me è un'ipotesi finora diciamo che è abbastanza lontana da quella che potrà essere secondo me la realtà. La notizia che a me interessa veramente è chi potrebbe essere il sostituto di Meret. Io sono andato ad individuare due o tre possibili sostituti e un sostituto è uscito veramente nei giornali degli ultimi giorni. Allora stiamo parlando di Vicario, portiere dell'Empoli che sta facendo molto 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 bene, un portierone ragazzi, uno di quelli che ha veramente i colpi delle parate, i colpi quelli belli, proprio quelle parate belle, un portiere ragazzi futuribile, un portiere fortissimo secondo me e per questo vi dico che è un giocatore che mi sta impressionando assolutamente per come gioca. Anche per Vicario la richiesta dell'Empoli è molto molto alta, comunque io non penso che l'Empoli sotto i 20 milioni vada a cedere Vicario anche perché è un portiere che sta sempre più in rottare il lancio. E dopo oltre a Vicario ho individuato carne secchi, questa però è una notizia che vi do io. Il Napoli se dovesse partire Meret c'è l'ipotesi Vicario che è quella che vi dato i giornali e oltre a Vicario che io vi confermo che è un'idea del Napoli se dovesse partire Meret un'altra ipotesi potrebbe essere assolutamente carne secchi che ad oggi è alla gremonese e sta facendo molto molto bene anzi secondo me è uno di quelli che ha fatto tra le migliori parate del campionato c'è carne secchi che ha fatto veramente veramente molto bene finora, è un portiere molto agile, molto fisico a me carne secchi piace tantissimo, parto col dire che tra carne secchi e Vicario allora li amo entrambi come portieri, però carne secchi ha quella cosa che a me proprio sembra quella cosa che ha il fenomeno secondo me, carne secchi secondo me è un po' un fenomeno Vicario anche, però diciamo carne secchi a me proprio fa impazzire come portiere Vicario mi piace molto invece, ecco sia Vicario che carne secchi possono rappresentare due possibili alternative a Meret, anche se io parto col dire che ad oggi la posizione di Meret al Napoli è salda Alex Meret è un portiere che in questo momento secondo me non ha bisogno di essere sostituito ha anche acquisito le giuste sicurezze e penso che meriti assolutamente di continuare da titolare il Napoli comunque oggi Collini ha svolto le visite mediche, cioè io sto registrando questo video la sera prima, per cui voi lo vedete mercoledì, le visite mediche di Collini sono state svolte martedì, per cui giusto per precisare un pochino la questione Siric dovrà svolgere le visite mediche con la Fiorentina e poi si potrà appunto concretizzare lo scambio quando io avevo detto su Instagram che lo scambio Collini Siric andava perfezionato e ci sarebbe stato un incontro appunto per la chiusura dell'affare tanti mi avevano scritto nei direct è già fatta, è tutto fatto, io ho detto piano perché prima l'affare va chiuso poi si devono stabilire le visite mediche, poi la Fiorentina comunque ha fatto molte richieste al Napoli anche sulla condizione fisica di Siric perché la Fiorentina fino all'ultimo è stata indecisa su questo affare adesso sembra potersi chiudere visto che comunque Collini ha fatto le visite mediche a meno che proprio non ci siano ripensamenti clamorosi della Fiorentina l'affare dovrebbe andare in porto questa è la notizia di Meret appunto sul Napoli altre notizie sul Napoli non ce ne sono Adama Traoré e Napoli contatti diciamo un pochino di stand by c'erano stati negli ultimi giorni quando vi avevo parlato di Adama Traoré che sembrerebbe voler accettare la proposta di 2 milioni e mezzo di bonus da parte del Napoli però il Wolverenton gli ha chiesto tempo per formulare un'altra offerta per il rinnovo di contratto appunto che lo legherebbe ancora per altri anni al Wolverenton però Adama Traoré comunque ragazzi non aspetterà a lungo il Wolverenton questo significa che può essere un grosso vantaggio per il Napoli che quest'estate potrebbe cedere sia Apolitano che il Ciuchi Lozzano al momento però non ci sono richieste un minuto lampo volevo farvi un piccolo riassunto della situazione Zagnolo ce la volevo mettere dentro perché se vi ricordate bene chi mi segue sul canale sa che avevo accostato Zagnolo al Napoli e che c'era stato un contatto tra le parti e che il Napoli aveva chiesto informazioni l'avevo detto diciamo in un video di un bel po' di tempo fa però voglio un po' raccontarvi la situazione in un attimo Zagnolo allora il Napoli al momento ne è fuori il Milan ha contatti frequenti con la Roma in queste ore il Milan ha fatto la prima offerta con un prestito a 500.000 euro con un riscatto a 17-18 milioni proposta rifiutata dalla Roma con Tiago Pinto che non vuole trattare sotto i 30 milioni comunque diciamo che una richiesta che comunque al momento risulta un po' alta secondo i rossoneri da parte di Tiago Pinto per cui ad oggi non c'è l'accordo tra Roma e Milan ma le parti si risentiranno si risentiranno comunque nelle prossime ore anche stasera visto che io sto registrando il video di stasera ci potrebbe essere questo incontro appunto tra le parti tra le dirigenze di Roma e Milan rimangono interessate Tottenham Brighton e Siviglia Brighton interessata perché comunque si sta per concretizzare il passaggio di Trossart attaccante del Brighton dal Brighton appunto all'Arsenal rimangono per cui interessati questi tre club Siviglia con il direttore sportivo che aveva portato Zaniolo dall'Inter alla Roma per cui diciamo che c'è un buon rapporto con Zaniolo per cui non è da escludere l'ipotesi Siviglia lasciate un commento qui sotto per scrivere cosa ne pensate della possibile operazione di cui abbiamo parlato Meretta Out dentro Vicario o Carnesecchi lasciate anche un'opinione sul Zaniolo se la volete lasciare comunque se Zaniolo dovesse firmare con un altro club io porterò il video qui sul canale YouTube io vi saluto un saluto al Bombermata sempre con le notizie di mercato sempre cari seguitemi su Instagram perché usciranno notizie di mercato e seguitemi ovviamente qui sul canale per i video che usciranno nei prossimi giorni io vi saluto ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.